Buongiorno a tutti i telespettatori. Noi siamo contenti di aver partecipato a Shabaka. Ringraziamo molto i Rubettino perché si ricordano sempre di noi, ci stanno vicini, anzi Maria Rubettino e Antonio Cavallaro, ci fanno proprio da segreteria organizzativa ogni qualvolta organizziamo un evento. Shabaka, come abbiamo detto quella sera, non poteva non approdare all'ospedale di Soveria Mannelli perché Shabaka è una rete e le reti negli ospedali hanno un ruolo fondamentale. E' la differenza tra la vita e la morte. Infatti le nostre reti si chiamano reti dell'emergenza. Sono le reti per l'infarto, per l'ictus, per i grandi ustionati, per i traumi. E se funzionassero perfettamente, anche un ospedale piccolo come il nostro avrebbe una sua ragione d'essere. Perché in breve tempo, per esempio un malato che ha un infarto, potrebbe raggiungere l'ospedale più grande, i cosiddetti ospedali Spock e Hub, dove possono essere curati adeguatamente. Purtroppo in Calabria queste reti non sono perfette e nel nostro ospedale poi mancano tante cose. Il nostro è un ospedale veramente di frontiera e così come è stato disegnato dai decreti ministeriali e regionali, è un ospedale in cui noi non possiamo fare una medicina giusta. La medicina giusta è quella che dà le stesse opportunità a tutti i pazienti, in qualsiasi ospedale si trovano. Però noi ci siamo attrezzati e quindi abbiamo costituito una rete, proprio per restare nel tema di sciabaca. La nostra rete è fatta dai piccoli medici, non dai piccoli, dai grandi medici, dal nostro piccolo gruppo di medici volevo dire, dei nostri infermieri che adesso stanno cambiando perché tanti sono andati in pensione, ne sono arrivati dei nuovi, quindi bisogna un po' rifare la nostra rete. Però questa rete circonda i nostri pazienti in modo che possiamo almeno fare una medicina rispettosa e una medicina sobria. Una medicina che metta al centro il paziente. Facciamo quella che si chiama umanizzazione delle cure, di cui tutti si riempiono la bocca e che in un ospedale come Soveria viene fatta da sempre. Grazie a tutti.